Benvenuti a questa nuova puntata di Made in Italy, programma che vuole dare voce all'eccellenza dell'Emilia-Romagna. Oggi abbiamo in collegamento con noi l'Avvocato Federico Bendinelli, Presidente di Campa. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei, grazie. Noi abbiamo un compleanno da festeggiare e da ricordare, perché così come ha fatto il nostro quotidiano nazionale dedicando un'intera pagina all'Avvocato, al Dottor Francesco Zinzani, è un bel traguardo quello dei 90 anni, ma soprattutto di 60 passati in Campa. Sì, è sicuramente un bel traguardo perché Francesco Zinzani è stato sostanzialmente uno dei fondatori della Campa, c'è fin dall'inizio, quindi da oltre 60 anni, ha svolto vari compiti, è stato direttore, è stato animatore, è stato presidente, è stato vicepresidente, quindi attualmente fa ancora parte del nostro consiglio di amministrazione, è il presidente onorario di Campa e quindi questo traguardo dei 90 anni lo ha raggiunto ancora in piena efficienza, in piena attività e naturalmente gli ho chiesto l'altro giorno di continuare così per almeno altri 10 anni. Poi quando arriva a 100 vedremo se è il caso a che parte. E possiamo chiamarlo il signor Campa, perché evidentemente c'è anche un bel ambiente in Campa, perché ovviamente arrivare a questo traguardo in così perfetta salute, io ho letto l'articolo e quindi vedo che è ancora anche un appassionato camminatore, per cui insomma gode di ottima salute e vuol dire che Campa non è solo di nome ma anche di fatto qualcosa del genere, giusto? Ma Campa innanzitutto assiste tutti i propri soci assistiti senza limiti di età, quindi vita natural durante, che naturalmente speriamo tutti che sia la più lunga possibile e in effetti abbiamo anche qualche socio centenario, quindi evidentemente essere in Campa fa bene, diciamo così, mantieni vivi. Ci vuole spiegare un po' la filosofia di Campa? Campa è una filosofia appunto mutualistica, tutti i soci diretti e quelli che sono soci attraverso delle convenzioni aziendali, naturalmente pagano tutti gli anni un contributo secondo anche il tipo di assistenza che scelgono e una volta entrati in Campa, finché vogliono restarci, hanno diritto di restare, cioè non c'è un limite di età oltre il quale vengono cortesemente invitati ad andare via, come in genere succede invece nelle assicurazioni, e quindi finché hanno voglia di restare, ovviamente pagando il relativo contributo restano vita natural durante, se anche hanno la sfortuna di avere molta necessità di assistenza e quindi ricorrono molte volte all'assistenza, anche questo non influisce assolutamente sul loro diritto a rimanere in Campa, per cui la persona che entra in Campa e che vuole restare in Campa sa di avere una copertura veramente, credo, ottimale. Beh, di questi tempi sono sempre delle buone notizie, insomma, delle buone indicazioni queste da ricevere. Noi quindi la ringraziamo e chiudiamo il nostro collegamento con dei contributi che i colleghi hanno voluto fare al dottor Zinzani e con il vostro spot che è molto molto bello. Io la ringrazio e alla prossima. Grazie a lei, grazie molto, grazie. Lavoro in Campa ormai da sei anni e di Zinzani posso dire che è un uomo di grande spessore, eleganza, charme e soprattutto anche se il tempo passa per tutti, lo spirito rimane giovane. L'ammiraglio della flotta Campa. Il dottor Zinzani è straordinario e voglio l'accetta, fantastico. Per me il dottor Zinzani è sempre stato l'anima dell'ufficio, con la sua presenza costante ma discreta, con il suo interesse per ogni aspetto del lavoro, ma soprattutto per l'empatia e l'attenzione che ha sempre dimostrato per ogni dipendente. Il dottor Zinzani è la Campa. Patrizio, anche tu sociocampa? Per campare sono sempre in viaggio, sai, una visita, un intervento, sono spese, si pensa a Campa. Campa, l'insieme che aiuta.